Buongiorno, ben svegliati, buon mercoledì, 19 luglio 2017, siamo pronti per andare a sfogliare le prime pagine dei giornali, dei quotidiani nazionali e locali che troverete tra poco in Edicola, che già trovate in Edicola, ovviamente con un particolare focus sulla nostra regione. In questa prima parte spazio alle prime pagine, poi nella seconda parte entreremo all'interno dei quotidiani, ovviamente con l'approfondimento dei nostri servizi. Partiamo dunque con le prime pagine, con le copertine di fatto dei quotidiani, con quelli della nostra regione. E allora iniziamo con le quattro edizioni del centro. Questa è l'edizione di Pescara e il titolo scomparsa ragazzina di 13 anni. Dunque titolo dedicato alla cronaca. Montesilvano, madre disperata, è uscita sabato pomeriggio e non è più rientrata. Ovviamente poi troveremo l'approfondimento all'interno, proprio nella sezione dedicata a Montesilvano. In alto invece si parla di turismo. Ovviamente siamo in estate, schiaffi al turismo, Sulmona-Roma stoppa i treni in Pullman fino a settembre. Deve essere un duro colpo il collegamento che salta, dal punto di vista ferroviario, tra Sulmona e la capitale. Scendiamo a centropagina perché la fotonotizia è dedicata a un grande, a un grandissimo della musica italiana. Bocelli sceglie l'Abruzzo, nuovo pianoforte per la star della musica. Il cantante Andrea Bocelli è stato ieri mattina in un negozio di pianoforti sul lungomare pescarese. Nelle cronache invece, andiamo a Pescara, il questore del degrado devono occuparsi i vigili. Siamo a Pescara. Questa è la risposta del questore all'allarme lanciato dal primo sindaco Marco Alessandrini. Sempre a Pescara, ma in politica, in giunta, ci potrebbero essere dei cambiamenti via Diodati per far posto a Teodoro. Questa è un'eventualità, vedremo se poi sarà effettivamente concreta. E poi ovviamente non può non esserci un richiamo al calcio. Simone Andrea Gans pronto, dice, per riportare il Pescara in Serie A. Peraltro ieri il Pescara è impegnato nella seconda amichevole da quando ha iniziato la preparazione. 8-0 contro la Virtustera, ma è stata anche l'occasione per le prime parole di Simone Andrea Gans. Vediamo anche rapidamente in Italia un richiamo a quelli che sono i fatti nazionali. Padre Annega per salvare la figlioletta per la questione migranti. L'Austria pronta invece a chiudere il Brennero. Iara Bossetti piange dopo l'ergastolo con Dan Abyss anche in appello. Questa è l'edizione di Pescara. Andiamo sull'edizione di Teramo. Ovviamente cambia il titolo per far spazio ai laureati di Teramo che lavorano subito. Uno studio nazionale, questa è una buona notizia, rivela che guadagnano in media 1.700 euro, meglio dei laureati a Teramo solamente Bolzano. Nelle cronache paura a Giulianova, auto data alle fiamme, esplode in un garage. E poi lo scontro, teatro conteso, partono le querele ad Alba Adriatica, chiuse le aree utilizzate come parcheggi. Andiamo sull'edizione di Chieti Lanciano Vasto. Morino ospedale, due condanne. Lanciano non prescrissero la coronografia dopo l'infarto. Un anno è la condanna ai cardiologi. Ad Altino invece la traccialine si incendia, operaio quarantenne ustionato. Vedete nella foto la macchina traccialine che si è incendiata ad Altino. A Torricella invece, a 94 anni, vola con l'auto nel burrone, sempre cronaca. Invece andiamo a Chieti, slitta il bilancio, la minoranza va in prefettura. Chiudiamo le quattro edizioni del centro con l'edizione L'Aquila Avezzano Sulmona. Gran Sasso Acqua scelto Aeraldi. L'Aquila si cambia, l'avvocato è il nuovo presidente. Luca Ricciuti entra nel consiglio d'amministrazione. Nelle cronache, Pesca Seroli usura sotto processo i vertici della BCC di Roma. Vedete nella foto il presidente della BCC Roma, Francesco Liberati. La siccità, col diretti, 200 milioni di danni. Questa è la stima che è stata fatta. Vedete, Giulio Federici proprio della col diretti. All'Aquila, Lolli, ricevute 766 domande per fare centro. Andiamo sulla prima pagina del messaggero Abruzzo, ovviamente l'edizione abruzzese. Poi avremo modo di vedere anche la prima pagina del messaggero nazionale. Ma questo è quello che ci interessa maggiormente. Quello che riguarda la nostra regione è l'apertura dedicata ai trasporti. Tua sale l'allarme sui conti. Autobus salta l'approvazione del bilancio della società di trasporti. Quadro economico incerto. Febbo dice bisogna fare immediatamente chiarezza. D'Alessandro risponde guardate alle vostre colpe. E poi in alto la sorpresa, come abbiamo visto, Bocelli a Pescara per comprare un pianoforte da Fabbrini. a Chieti, apriti cielo, questa sera alla Civitella c'è Mannarino che vedete anche nella foto. Per il calcio Pescara ecco i primi gol. Bombergans si presenta. Scendiamo ancora per vedere a Montesilvano cronaca. Minaccia di Darfoco la ex bloccato ma evita l'arresto. Montesilvano l'uomo intercettato con una tannica di benzina. E poi nella foto le 766 qui il numero è diverso 800 adesioni al bando fare centro e vedete anche il vice presidente Giovanni Lolli che ha dato questi numeri e dunque l'Aquila scommessa rinascita. Sempre a Montesilvano torniamo sulla notizia fugge da casa a 14 anni non ci sono più notizie di una ragazzina di 14 anni e poi di spalla vedete questo intervento l'Aquila capitale dell'Appennino per evitare lo spopolamento è un intervento del sindaco neosindaco dell'Aquila che vedete in basso con la firma Pierluigi Biondi che dunque fa un po' il punto della situazione sulla sua città che sarà chiamato ad amministrare nel prossimo quinquennio la città adesso ci spostiamo a Teramo sisma proroga in vista per i danni ci sarà tempo fino a marzo 2018 per le richieste di contributo alla ricostruzione l'accordo è già fatto in alto la guerra del cineteatro comunale la ACS annuncia querele per comune e per Riccitelli tragedia al Luna Park nessun malore prima della caduta mortale si torna sulla tragedia avvenuta proprio al Luna Park la fotonotizia Braga ecco perché il ricorso sugli stipendi è più che legittimo poltrone e responsabilità di spalla Roseto degli Abruzzi sequestri spunta il quarto indagato a Giulianova Forza Italia avrà il suo candidato sindaco Giuliese e invece a Tortoreto tornano i Deor cancellati dal commissario a Tossicia andiamo sull'altra parte della pagina individuato il responsabile dell'incendio e poi in basso per il calcio Teramo duello tra mister Asta e il direttore sportivo Repetto sui giocatori che attualmente si stanno allenando a parte rispetto a coloro che sono in ritiro e poi l'anniversario 25 anni fa la strage di Via D'Amelio Rai 1 celebra ovviamente la persona la personalità ancora oggi molto molto attuale e importante ovvero del giudice Paolo Borsellino queste le prime pagine dei quotidiani regionali andiamo adesso sui su le prime pagine dei quotidiani invece nazionali per vedere quali sono le principali notizie che riguardano l'Italia e allora cominciamo dalle colonne di Repubblica che apre con le parole del capo della polizia Gabrielli il G8 una catastrofe ma non ci sarà più un'altra Genova dunque le parole di Gabrielli che dice a Bolzaneto ricorderete i fatti del 2001 fu tortura ora chiudiamo quella ferita per guardare avanti la foto notizia lo scandalo del duomo di Ratisbona violenze su 547 bambini del coro il fratello di Ratzinger sapeva questa è l'indiscrezione e poi per la politica Gentiloni avverte Alfano sullo Iussoli non rinuncio a settembre metto la fiducia Prodi sulla legge per la cittadinanza è saltato dice il senso logico in basso Obama Care la riforma sanitaria voluta dall'ex presidente Barack Obama doppio schiaffo a Trump neppure i repubblicani lo sostengono bilancio deludente dei primi sei mesi di presidenza e poi Lazio libertà di manzarda per tutti il condono bipartisan alza i sottotetti autorizzato dalle giunte sia di destra che di sinistra e allora rimaniamo a Roma per andare sulle colonne del tempo Napolitano in ferie col volo blu l'ex presidente della Repubblica presidente emerito l'ex presidente va in vacanza con l'aereo di Stato e un esercito di angeli custodi inchiesta sulle scorte seconda puntata parlano i politici e i VIP sotto tutela a centropagina i PM si prendono i contratti di Fazio la Corte dei Conti acquisisce le carte da Viale Mazzini della RAI nel mirino il super stipendio del conduttore e poi rimaniamo a Roma tarivasa da governo e ministeri denuncia del sindaco Virginia Raggi andiamo adesso sulle colonne del messaggero per vedere invece qual è l'apertura nazionale sbarchi si torna sulla questione migranti le ONG non si fermano nuovo picco di arrivi quasi il 20% in più rispetto all'anno scorso l'Austria chiudiamo il Brennero le navi che portano migranti rifiutano le nuove regole il sindaco di Rimini così ho sconfitto gli abusivi e poi sempre torniamo negli Stati Uniti Trump schiaffo dei repubblicani salta la riforma anti-Obamacare a Roma macchinisti con doppio lavoro scandalo all'Atac indagine interna sugli autisti attività extra che vanno dal becchino all'elettricista per i macchinisti dell'Atac a Castelfusano cosa resta dopo il rogo il piromane arrestato potrebbe aver appiccato però si dice altri incendi la stampa andiamo a Torino l'apertura è dedicata alla politica governo duello gentiloni Alfano il premier Ius Soli da approvare entro settembre il ministro senza modifiche non passa ieri l'incontro fra i due Palazzo Chigi conta su dati economici migliori per favorire il via libera alla manovra Arabia Saudita la rivolta della minigonna una modella sfila nel forte simbolo dei fondamentalisti per rivendicare i diritti delle donne e però poi l'hanno arrestata il corriere della sera l'affare profughi portarli in Italia frutta 400 milioni lite con Vienna Boldrini minacce deprimenti Stati Uniti The Donald non riesce a riformare la sanità ed evidentemente la foto è parecchio esplicativa perché il presidente degli Stati Uniti Donald Trump con una mazza da baseball probabilmente quella che avrebbe usato per abbattere l'Obamacare ma che effettivamente poi si è rivelato un boomerang infatti l'Obamacare resiste si legge a Trump nel coro di Ratisbona il caso che potrebbe che è destinato a sconvolgere ancora una volta il mondo della chiesa nel coro di Ratisbona violenze su 547 bambini il legare incaricato dal vescovo Georg Ratzinger fratello del Papa ancora ancora in vita ma non più non più sul soglio pontificio sapeva scendiamo al fatto quotidiano doppia apertura i PM cercano il giudice che tradì Borsellino 25 anni dopo Caltanissetta nuova indagine su Via D'Ameglio Berlusconi invece bloccate l'esodo se no cade il governo Giravolte chi aveva tradito per Alfano e Verdini adesso ritorna le nuove intercettazioni del caso Consip Romeo ho conosciuto Tiziano Renzi guardo Matteo in tv e vedo lui caso Consip altre carte depositate a Roma la vicenda a Ratisbona abusi nel coro l'altro Ratzinger sapeva a Genova G8 tornano in servizio gli agenti condannati la polizia si legge perdora ma abbiamo visto anche che ci sono le parole importanti del capo della polizia Gabrielli il secolo XIX ovviamente siamo a Genova scuola primi temporali estivi governo sullo Ius Soli Scintille Gentiloni Alfano lo spettro manovra e poi in alto alcune notizie di sport Cassano nostalgia canaglia mi ritiro e smetto anzi no ieri si era sparsa la voce poi confermata dallo stesso Antonio Cassano di voler rinunciare al contratto con il Verona poi nella conferenza stampa invece ha fatto marcia indietra e rimane dunque in giallo blu salta invece il trasferimento di Schick la Juve lascia e l'attaccante ritorna alla Sampdoria e poi una notizia che riguarda sottomarini e sensori il lavoro degli scienziati sulla Allianz così si misura la febbre dell'Artico scendiamo adesso a Libero Alfano ritrova il Quid e torna da Berlusconi chi va e chi viene nel centro-destra contatto tra il leader di NCD e il Cavaliere disposto a tutto per far vincere il centro-destra e Angelino che appena affossato lo Ius Soli di Renzi non si presenta a mani vuote Salvini si oppone in tutti i modi una calamità maronitace e forse acconsente la foto è come al solito una provocazione di Libero adesso tutti rimpiangono Gheddafi dopo averlo ucciso si legge in basso Napoli come Racca e Kiev tra le dieci città più rischiose questa è la classifica mondiale del pericolo c'è anche il capoluogo partenopeo e poi Borsellino perseguitato da mafia e antimafia chi era il PM camerata assassinato il mattino dunque ci spostiamo in campagna verso Napoli Renzi tetto massimo per i migranti Ius Soli un dovere ma sto con Gentiloni non mollo su Consip papà operato al cuore per questo di spalla anche notizie di calcio Napoli Milik va e sul caso Reina c'è la squalifica il manifesto la trumpata la trampata insomma leggetela un po' come volete su Obamacare e Iran il presidente degli Stati Uniti incassa una doppia sconfitta il fuoco amico repubblicano si legge costringe a rimangiarsi la promessa di cancellare subito la legge sulla sanità e su pressione del suo staff deve ammettere che Teheran sta rispettando gli impegni presi sul nucleare con Obama ma avanti con le sanzioni per non urtare troppo l'alleato saudita e infatti nell'analisi che fa Guido Moltedo la rottamazione fallita di Trump almeno fino a questo momento in alto reintegrati i macellai della Diaz 16 anni dal G8 di Genova del 2001 la metà dei poliziotti si legge condannati per rirruzione alla scuola di Diaz potrà a breve chiedere il reintegro alla polizia di Stato Siamo quasi per chiudere con le prime pagine nazionali vediamo la verità bus gratis per gli immigrati prezzo triplicato ai disabili il modello Emilia Romagna ovviamente sottintendendo un minimo di ironia immaginiamo la regione ha modificato i parametri per gli sconti agli handicappati rendendo i loro spostamenti molto più costosi richiedenti asilo ai quali viene già pagato vitto e alloggio scorrazzano invece a spese nostre nella foto il barcone della morte un cinico spot finito nelle fosse comuni poi nuove regole per le banche paga il cliente dal primo gennaio grazie alle misure dell'Unione Europea tassi dei mutui e dei fidi più cari per garantire le riserve politica annunzia De Girolamo di Forza Italia niente inciucci con il PD ma se gli elettori ci obbligano puntini puntini dunque lascia la porta forse anche sebi aperta la battaglia della SIAE Renzi scaglie il rapper Fedez contro Franceschini l'avvenire tutti italiani non ancora con cittadini questa legge sa da fare lo Ius culture rinviato Renzi sto con Gentiloni ma è doveroso approvare la norma entro la legislatura secco stop a Trump a centro pagina la sanità non cambia al Senato anche i repubblicani bocciano il sistema post che avrebbe dovuto superare l'Obamacare andiamo anche in Venezuela sempre politica internazionale l'avvertimento di Maduro nessuno tocchi la Costituzione infine chiudiamo con il sole 24 ore borse e corsa al listing record in Asia boom negli Stati Uniti in Cina 317 matricole Italia balzano le quotazioni delle PMI USA salta la riforma sanitaria il dollaro accusa il colpo e poi per le banche Padoan ora gestione attiva NPL accelerare sui titoli cuscinetto l'ABI a giugno in crescita prestiti a famiglie e imprese e poi boom di domande al ministero scuola in 650.000 per le supplenze brevi queste le prime pagine dei quotidiani nazionali adesso facciamo un piccolo salto anche sullo sport per vedere quelle che sono le notizie partendo dalla gazzetta dello sport che apre con un gioco di parole ma poi neppure tanto chic shock la Juve rinuncia alla stellina della Sampdoria senza idoneità il cieco non passa le visite mediche tra un mese nuovi controlli allora potrebbero farsi avanti Inter e Roma proprio per chic che vedete nella foto un po' nemmeno troppo di repertorio davvero di qualche giorno fa delle visite mediche con la Juventus e questo è davvero un giallo di mercato 30 milioni e mezzo leggiamo Patrick Schick è stato protagonista nell'europeo la Juve lo aveva pagato proprio questa cifra 30 milioni e rotte di euro 30 milioni e mezzo di euro in alto sempre mercato ovviamente siamo in estate vesino vicino l'Inter pronta a pagare la clausa per il centrocampista della Sampdoria lo vuole spalletti costerà 24 milioni contatto per Keita ma a Firenze il progetto continua ripartendo dal figlio d'arte Chiesa ultima cassanata di spalla Verona mi ritiro anzi vado avanti Antonio Cassano prima convoca una conferenza per annunciare l'addio poi cambia idea avrei fatto una C una cavolata insomma non l'ha detta proprio così però ci siamo il Milan non crede al no del Borussia per Obama Young doppietta del centravanti nel 3 a 1 dei tedeschi in Cina Cassi in campo con il 19 di Bonucci e giallo sulla maglia si legge intanto la Roma ce la fa De Frel è preso e compra ancora De Frel dunque dal Sassuolo arriva in giallo-rosso su espressa richiesta di Eusebio Di Francesco altri obiettivi della Roma Barreca e Mares i prossimi obiettivi questa notte a Detroit la sfida contro il Paris Saint-Germain e poi il ciclismo il tour oggi giornata importante le montagne nel 2018 il sardo Aru andrà da Saronni ma intanto la verità per Aru è sulle Alpi attacco finale a Frommi due sono davvero vicinissimi nella classifica generale infatti il commento di Luca Gialanella mai visti 4 in 29 secondi volata a mozzafiato in cima alla storia ovviamente tutta Italia farà il tifo per Fabio Aro per questo recupero non impossibile sul britannico della Sky Christopher Froome e poi la notizia di pallavolo che con la pallavolo c'entra ma che fino a un certo punto il mal di scarpe di Zaitsev via dall'Italia ma forse la star del nostro volley cacciata dal ritiro andiamo adesso sul Corriere dello Sport che adesso rendiamo un po' più grande per permettere una lettura migliore l'apertura è dedicata alle parole del presidente della Juventus Andrea Agnelli che ordina il settimo scudetto e dice rivince la Juve il presidente fissa gli obiettivi bianconeri i sei campionati di fila devono diventare sette non è arroganza è ambizione e questa mattina c'è un vertice per Bernardeschi della Fiorentina salta invece l'affare Schick in alto il Milan all'attacco e punta tutto su un altro giocatore della Fiorentina ovvero Nicola Kalinic Obama Young blindato e fa anche due gol a Montella Roma cede Frel per Di Francesco oggi firma poi negli Stati Uniti l'attaccante ormai si può considerare ex Sassuolo stanotte test contro il Paris Saint-Germain in basso Napoli-Reina l'accordo è vicino Milic è scatenato e con il Carpi finisce 4-1 e poi il fatto l'ultima follia di Cassano si ritira anzi no la Lazio lei va pazzo di Lazio grande società il brasiliano da Inzaghi per me è una bella sfida e poi due anni Chelsea e Conte siglato il nuovo contratto il tecnico è felice lavorerò per restare al top e poi come abbiamo letto prima oggi si decide il Tour de France ma non solo oggi anche domani si arriverà sull'Isoar si decide il Tour per due giorni sulle Alpi e Aru ci prova e poi Tutto Sport che torna ancora sulla vicenda Bonucci tutta la verità dice il quotidiano molto vicino alle vicende Juventine vi svegliamo in retroscena dell'addio alla Juve salta Schick dopo Scesni e De Ciglio in arrivo Bernardeschi ed Emre Chan e poi invece a scuola di Toro andiamo sulle questioni Granata primo giorno per Berenguer tra visite mediche e allenamento a Bormio il passaggio ovviamente obbligato al Filadelfia estero Spagna scossa da un altro scandalo corruzione arrestati i vertici della Federcalcio spagnola e poi per il ciclismo Vaiaru le Alpi per tornare in giallo Zaitsev per il volley niente Italia il problema sono le scarpe in basso calciomercato italiano Inter vesino e più vicino garantisce Spalletti Milan Aubameyang sfuma Mari spunta niente meno che Karim Benzema allora queste erano le prime pagine dei quotidiani adesso noi ci fermiamo previsioni del meteo pubblicità poi rientriamo ed entreremo all'interno dei giornali di casa nostra Di nuovo insieme dunque seconda parte di Mattino 6 per entrare all'interno dei quotidiani di casa nostra ovviamente partiamo con il centro e con Pescara sicurezza in città questo è il focus principale del quotidiano il questore di Pescara Francesco Misiti che dice del degrado devono occuparsi i vigili interviene dunque il questore dopo l'appello del sindaco Alessandrini e dice ognuno faccia il suo la municipale non può chiudere a mezzanotte e mezza e per la cronaca vediamo anche un denunciato a ripetizione e arrestato insomma questa è una polemica che vedete riprende un'altra lo sfogo l'appello del sindaco Alessandrini che aveva detto che il comune era lasciato solo nella lotta al degrado un appello lanciato davvero qualche giorno fa è arrivata la pronta risposta del questore anche i rilievi degli incidenti stradali in città sono di competenza dei vigili che dice devono però operare anche di notte in basso ripuliti i giardinetti dei bivacchi vigili attiva e operai del comune hanno sistemato l'area davanti al terminal del bus e vedete le operazioni di pulizia proprio di questi giardinetti andiamo sull'altra pagina dove vediamo il blitz dei nassi in pasticceria intossicati dai dolci alla crema sei persone si presentano in ospedale con dolori addominali e in dissenteria e a Porta Nuova i carabinieri hanno chiuso un bar per carenze igieniche bando per il trasporto dei feriti il tar congela la gara di appalto il tribunale amministrativo regionale ha accolto la richiesta di sospensiva presentata dalla misericordia della gara di appalto indetta dalla ASL locale per il servizio di emergenza urgenza e trasporto infermi sul territorio della provincia in basso ancora cronaca rapina bis alle poste di Santa Teresa in azione tre banditi mascherati uno era armato di pistola il bottino è di 600 euro a Colle Corvino arresti domiciliari al marito violento cambiamo pagina estate sicura in spiaggia senza rischi con i consigli dei medici 10.000 opuscoli godersi l'estate saranno distribuiti negli stabilimenti come proteggere i bambini la vista e la pelle le precauzioni contro le infezioni e ad urbano il giudice Tramaglini è il nuovo presidente del tar nella foto Alberto Tramaglini dunque nuovo presidente del tribunale amministrativo regionale crisi politica in comune a Pescara via Diodati dalla giunta per far posto a Teodoro spunta un piano per sostituire l'assessore che rivela il sindaco mi ha garantito che rimarrò al mio posto pronto anche un cambio tra la di Pietro e la di Carlo e vedete chi potrebbe uscire e chi potrebbe entrare vediamo nelle foto chi potrebbe uscire Giuliano Diodati e Laura Di Pietro e potrebbero entrare Gianni Teodoro e Simona Di Carlo almeno queste sono le indiscrezioni in basso il consigliere aggiunto avrà uno stipendio l'amministrazione pagherà i gettoni di presenza anche alla rappresentante degli stranieri a Pescara sempre per per quanto riguarda le questioni di giunta l'assessore scotolati che dice sulla riviera sud faremo un pennello in difesa della costa torniamo su una vicenda che abbiamo affrontato nei giorni scorsi ovvero le famiglie che vivevano le abitazioni sgomberate in via lago di Borgiano aiuti fino a 900 euro per le famiglie sfollate la protezione civile riconosce i danni causati dal terremoto e sblocca i contributi destinati a chi prende un affitto in in affitto una casa e leggiamo anche le 84 famiglie sgomberate dai tre palazzi di via lago di Borgiano a rischio crollo potranno avere contributi mensili per pagare le case prese in affitto i cosiddetti CAS ossia i contributi di autonoma sistemazione la buona notizia è arrivata ieri pomeriggio quando la protezione civile ha fatto sapere al vice sindaco Antonio Blasioli che sta seguendo la vicenda sin dal primo giorno l'esito delle perizie sugli edifici sgomberati questa è una buona notizia a Città Sant'Angelo l'antica zanna di elefante sarà esposta al pubblico dopo 34 anni andiamo a Montesilvano cronaca sparita studentessa tredicenne della Delfico questa era la notizia che avevamo dato e che è presente anche nelle nelle prime pagine le aperture dei quotidiani regionali giallo in via Orta appello della madre mia figlia è uscita di casa sabato pomeriggio e non è più tornata aiutatemi a ritrovarla questa è la foto di Elisa Catalina Monteano la studentessa tredicenne sparita sabato e poi a destra il luogotenente dei carabinieri Rolando i genitori dicono abbiamo presentato una denuncia ai carabinieri e scritto a chi l'ha visto chiunque abbia notizie ci chiami perché ovviamente come è normale che accada siamo disperati schianto a Cesena muore un imbianchino il giovane di origine albanese Dritan Ulcu di 36 anni abitava a Montesilvano e ieri viaggiava su un furgone insieme ad altri due colleghi e vedete nella foto davvero quello che resta purtroppo uno dei due mezzi distrutti nel impatto l'Arta promuove il mare di Montesilvano ovviamente siamo in piena estate i risultati delle analisi di luglio evidenziano valori di enterococchi ben al di sotto dei limiti di legge e dunque prosegue a gonfie vele la stagione di balneare a Montesilvano tassa dei rifiuti domani scade la prima rata del Tari andiamo avanti e andiamo a Francavilla che piange Simoncini il fondatore del Carnevale lo storico maestro della cartapesta scomparso ieri a 89 anni pittore edile aveva tenuto anche lezioni all'università oggi i funerali a San Franco e vedete nella foto proprio Gabriele Simoncini sempre a Francavilla salvata una tartaruga che era intrappolata nella plastica purtroppo questioni che accadono soprattutto d'estate sempre a Francavilla non ci sente ripassi a gennaio l'odissea di un pensionato sempre di Francavilla la visita fissata nel 2018 leggiamo sei mesi per una visita un disturbo che non passa l'odissea di un malato che lamenta di non essere stato assistito nel modo dovuto e ora non sa più a chi rivolgersi sempre a Francavilla col diretti inaugura la nuova sede per imprese agricole e asfoltore domani invece ci sarà la nomina delle commissioni consigliari per attività economiche servizi attività costituzionali bilancio e finanza del personale lavori pubblici e assetto del territorio Adalanno festival della melodia il trionfo di Ligorio andiamo nella zona di Penne Popoli Alta Val Pescara Farindola riparte dal ristorante hotel domenica si inaugura la cucumella la struttura avviata dalla coppia di ex dipendenti del resort distrutto dalla valanga e quella che vedete è la struttura che ospiterà un ristorante pizzeria e 5 camere anche per dormire e qui ci sono gli ultimi ritocchi prima dell'apertura ufficiale a fuoco le discariche tossiche bussi denuncia del forum H2O aree che non sono in sicurezza appenne defibrillatori in centro affidati ai negozianti progetto dell'amministrazione per intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco andiamo a Chieti Lanciano omicidio colposo morire in ospedale condannati due medici un anno ai cardiologi dell'ospedale Renzetti che non fecero la coronografia a un 83enne colpito da infarto nuove indagini proprio a Chieti per la cronaca a 94 anni precipita con l'auto nel dirupo a Torricella Peligna sfonda la balaustra del Belvedere vola nel vuoto l'elisoccorso arriva dall'Aquila delitto di Ortona subito il processo per Marfisi moglie e amica uccise la procura chiede il giudizio immediato chiesto dal sostituto procuratore di Chieti Giancarlo Ciani incidente ad Altino operaio si ustiona mentre lavora macchina traccialine urtata da un'auto si ribalta e si incendia all'Aquila usura i vertici della BCC Roma a giudizio Pescassero il caso dell'hotel La Conca nei guai il presidente Liberati e altre sei persone per il PM avrebbero applicato interessi eccessivi ai titolari di un albergo e poi il vicepresidente della regione Giovanni Lolli che dice 766 le domande per fare centro un successo il bando per rivitalizzare la città in basso ad Avezzano erano dei bulli costretto a fare il duro arresti nel centro di accoglienza di Canistro Palma si difende Cascere denunce prese per oro colato a Teramo università da record primato per i laureati di Teramo trovano subito lavori ben pagati secondo le statistiche di Alma Laurea l'86,7% dei giovani usciti dai corsi dopo tre anni è occupato e guadagna in media 1.706 euro al mese il dato sugli stipendi è secondo solamente a quello di Bolzano è nell'energia precisa si può evitare l'odissea nelle ricevitorie per gli eventuali rimborsi nel e ovviamente torniamo alle ai problemi che ci sono stati durante le forti nevicate invernali cronaca autodata alle fiamme esplode in garage paura nella notte a Giulianova salvata un'anziana invalida e il secondo attentato alla stessa famiglia e poi allora prima di andare sulle pagine dello sport apriamo il messaggero che apre con i trasporti tua bilancio al palo febbo ed alessandro in rotta di collisione l'esponente di forza italia la verità sui conti dell'azienda il consigliere delegato stiamo risanando i vostri errori dubbi sulla legalità della transazione da 7,4 milioni a copertura di vecchi debiti attribuibili ad arpa caldo e nubi fragili milioni di danni quelli che denuncia la col diretti Abruzzo che interviene sul clima pazzo dell'estate 2017 che tra temperature record incendi e nubi fragili sta provocando non pochi danni all'agricoltura italiana e dunque anche abruzzese banda ultralarga la regione accelera sul progetto D'Alfonso è questa l'acqua del terzo millennio Abruzzo estate relax smartphone a riposo meno stressati digitali in estate nella calda stagione gli abruzzesi mettono a riposo si legge anche gli impulsi tecnologici degli smartphone facendo registrare una diminuzione del fabbisogno di traffico di dati è veramente riposo a tutti gli effetti a Pescara minaccia di dare fuoco all'ex compagna notte di paura in un condominio di via Lavino a Montesilvano l'uomo si è presentato sotto casa di lei con una tanica di benzina la donna disperata ha fatto subito intervenire i carabinieri lui è stato bloccato e denunciato ma non è scattato l'arresto e poi la sorpresa Andrea Bocelli fa shopping da Fabbrini noto esercente strumenti musicali il tenore acquistato ovviamente uno Stanway con lui l'imprenditore del marmo Gualtiero Vanelli e gli amici attori Giampiero Mancini e Laura Baldassare dunque una visita sorpresa da parte di Andrea Bocelli a Pescara un luglio da record per l'aeroporto l'incremento di passeggeri rispetto allo stesso mese 2016 tocca il 29% Mattoscio presidente della saga merito delle nuove rotte il nuovo parcheggio coperto è previsto entro il 2019 quello attuale sarà ampliato con più varchi e più telecamere allora proprio su questo argomento noi ci andiamo a vedere il servizio numeri positivi per i passeggeri in transito ma anche sul fronte dei bilanci il presidente della saga società che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo di Pescara Nicola Mattoscio risponde per le rime a chi aveva sollevato critiche sulla gestione dello scalo rilanciando l'obiettivo delle milioni di passeggeri contrariamente a dati sbagliati che sono stati fatti coppevolmente circolari il volume di traffico di questo aeroporto cresce cresce significativamente nelle prime due settimane nel mese di luglio siamo di fronte a un incremento del 29% nei primi sei mesi dell'anno 2017 la crescita è di oltre il 10% quindi siamo perfettamente in linea con l'obiettivo del piano industriale che prevede a fine anno di traguardare e superare i 650 mila passeggeri altri fatti sono i risultati economici chiudiamo anche il primo semestre 2017 in linea con i due precedenti esercizi e cioè con tutte le tendenze gestionali e bilancistiche che sono in direzione del recupero di solidi equilibri patrimoniali per la società avendo superato da questo punto di vista anche le criticità che venivano rilevate dalle autorità di vigilanza riguardo e anche di recupero della sostenibilità economica dei principi di sostenibilità economica con rivisitazione di tutta la struttura di costi e la struttura dei ricavi questi sono i dati veri da cui partire per ogni valutazione obiettiva più o meno polemica che si voglia fare che ci sta tutto nel confronto e nel dibattito pubblico ci può stare qualunque osservazione critica e anche polemica ma la cosa che non si può ammettere è che queste considerazioni critiche e polemiche siano basate su informazioni sbagliate cambiamo argomento andiamo a Montesilvano distretto bloccato rimanendo sempre sulle colonne del messaggero distretto bloccato dalla burocrazia il cantiere senza fine a Montesilvano il Movimento 5 Stelle denuncia gravi ritardi e alti costi la struttura è ferma dal 2014 e la ASL continua a pagare 10.000 euro al mese per Villa Verlengia sempre per la sanità centro per lungo dei genti al Carmine la ASP rilancia il progetto per penne dopo 40 anni viene risvolverata una vecchia idea si profila l'intesa tra regione ASL e il comune all'Aquila Fontari dunque cambiamo città c'è l'accordo politico per superare le prescrizioni sostanziale intesa tra le parti in causa per trovare soluzioni alle obiezioni del parco fissata una riunione tecnica collente prima di un sopralluogo nell'area cantiere Giuliani dice dal vertice con il sindaco Pierluigi Biondi emersa la volontà da parte di tutti di favorire i lavori turismo l'assessore promette tre infopoint e quella che vedete nella foto è l'infopoint in piazza Duomo chiuse e in condizioni non proprio eccezionali Gran Sasso Acqua Aeraldi è il nuovo presidente e il sindaco Biondi invece premia due campioni aquilani di Sky Running in 800 scommettono rimanendo all'Aquila sulla rinascita la regione ha presentato i risultati del bando fare centro che assegna 20 milioni a chi vuole tornare nel cuore della città ora via all'esame delle pratiche l'obiettivo è fine ottobre già caccia nuove risorse si punta ai 10 milioni di Invitaglia ritorna la scuola edile come nel 70 ma è allarme sulla paralisi dei cantieri presentati lavori da 4 milioni e mezzo Baratelli dice stagnazione preoccupante andiamo ad Avezzano di Pangrazio maggioranza provvisoria l'ex sindaco presso la fissazione del ricorso davanti al TAR De Angelis accetteremo qualsiasi decisione dei giudici la nuova amministrazione comincia a lavorare con qualche problema irrisolto sperando in una eventuale campagna acquisti a Sulmona a fine mandato dal giudice l'ex sindaco e la dirigente è sempre a Sulmona Asl gli ambulatori saranno trasferiti il manager in corso le verifiche per accertare l'adeguatezza delle due strutture incendi la Marsica è sotto assedio uno dei posti in Abruzzo più colpiti evidentemente dalle fiamme Pupillo risponde ai sindaci il presidente della provincia di Chieti dunque ci siamo spostati in un'altra provincia risponde ai sindaci che avevano protestato le tasse e i soldi deve averli la provincia messo sotto accusa per le strade dissestate il presidente minaccia di chiedere il TEFA si tratta di 3,8 milioni di arretrati che molti comuni non hanno versato troppi ritardi sciogliete il consiglio questo è in comune per le questioni del comune e poi ad Ortona il duplice omicida vuole l'abbreviato gli efferati delitti di Pasqua e Ortona Marfisi uccise la moglie e un'amica di lei la procura chiede il giudizio immediato ma la difesa punta allo sconto di pena e alla perizia psichiatrica Sanzificio chiesto il rinnovo per 15 anni Berghella quell'impianto va spostato dopo le condanne ai Becere per inquinamento il sindaco di Treglio chiama in causa la regione Cronaca Altino e Torricella operaio ustionato e invece l'anziano nel burrone sono due notizie di Cronaca che sono avvenute una a Selva di Altino e un'altra Torricella Peligna che vi abbiamo proposto poco fa a Teramo guerra del teatro scattano le denunce sollevati i dubbi sui requisiti tecnici del nuovo gestore la ACS replica querelando il sindaco Brucchi e tre consiglieri nel mirino i rappresentanti comunali che hanno chiesto degli approfondimenti sulla concessione Maurizio Verna consigliere del PD e nel CDA della Ricitelli nel mirino proprio dell'azione giudiziaria Teramo Ambiente l'anticorruzione dal via libera alla gara da 100 milioni erano passati quasi due anni da quando si decise la strada della massima trasparenza Capitale Cultura la fondazione ci crede a Giulianova vergogna per come hanno trattato la città sulla vicenda ospedale interviene l'ex assessore regionale alla sanità Venturoni noi troviamo i soldi per la nuova struttura ci sono interessi di Campanile a decidere la vicenda e non la logica in favore solo di una struttura sulla costa e sempre per la cronaca fiamme nella notte a fuoco auto bici e frigoriferi andiamo sullo sport i miei gol per tornare grande il neacquisto ovviamente parliamo di Pescara il neacquisto Ganz si presenta con la maglia numero 9 ho scelto la società che più ha creduto in me dall'esperienza con il Verona mi porto dietro un anno denso di sacrifici con il presidente Sebastiani subito un'intesa perfetta otto gol alla Virtus e dunque debuttano i nuovi ma ovviamente la scena ieri era tutta per Ganz nonostante come vedete Aquilani Rescinde e venerdì i sorteggi di Team Cup ieri il palcoscenico era tutto per il nuovo attaccante biancazzurro Simone Andrea Ganz che andiamo adesso ad ascoltare i compagni mi hanno accolto molto bene mi sembra un gruppo molto affiatato anche se siamo tanti ancora però oggi diciamo che è stata la prima sgambata sì diciamo che io sono un ragazzo che quando vede tanto interesse e infatti ringrazio prima di tutto il presidente per questo interesse fin da sono tanti mesi che comunque mi voleva con il direttore e anche il mister perché ha fatto delle grandissime dichiarazioni penso da tutte le parti quindi quando ho letto quello che ha detto il mister non ci ho pensato due volte ho scelto Pescara fatica tanto abbiamo faticato tanto in questa settimana invece sotto il punto di vista del gioco ancora siamo tanti nuovi quindi oggi abbiamo provato a giocare un po' certe cose sono andate bene altre meno bene però abbiamo tutto il tempo per migliorare io parto dal presupposto che un attaccante debba fare gol quindi sicuramente il mister vuole che comunque giochi con la squadra faccia le sponde e poi andare lento per aspettare il momento buono perché tanti attaccanti con il mister hanno fatto molto bene e spero di farlo anch'io il pres mi ha preso per questo per finalizzare il gioco io cercherò in tutti i modi di farlo e di fare il più gol possibile io ho scelto Pescara proprio per questo perché voglio rilanciarmi voglio comunque dimostrare di essere un giocatore importante un attaccante importante penso che questa sia la piazza giusta con l'allenatore giusto per cui poterlo fare e dunque gol è riscatto Gans torniamo sul centro si prende il Pescara e nuova attaccante Biancazzurro le parole di Zeeman decisive per la mia scelta sono pronto a giocarmi il ritorno in Serie A sulle orme di papà Maurizio Gans ho un rapporto splendido con lui e spero di mettere in pratica i suoi insegnamenti conosco a memoria tutti i gol della sua carriera come sogna di ripercorrere la stessa strada di Immobile e Lapadula sono attaccanti formidabili mi auguro di segnare tanti gol per ripagare la fiducia della società che ha investito su di me e in basso altra goleada per il Delfino 8 a 0 contro la Virtus Teramo gol di Mazzotta Capone Selasi Nicastro doppietta di Cappelluzzo per Rotta e il giovane ma molto interessante del Sole andiamo avanti sullo sport SOS Emergenza Sport soldi e manager il declino dell'Abruzzo gli sponsor scappano e la caduta si consuma tra i diludenti i risultati del campo e la scomparsa di storiche realtà la crisi economica si ripercuote sugli investimenti sia a livello professionistico che dilettantistico l'ultimo caso il Chieti Basket costretto ad ammainare bagniera bianca dal boom dell'inizio degli anni 2000 ai giorni nostri cronaca di una graduale discesa con qualche eccezione tra le isole felici il calcio a 5 e il volley a Ortona il rugby invece è ancora in affanno andiamo in Lega Pro a Teramo esperienza al potere speranza all'arma in più è l'ora del riscatto il capitano la settima stagione con la maglia bianco-rossa si riparte dopo l'annata non positiva in arrivo ci sarebbe Lorenzo De Grazia l'anno scorso alla Maceratese mercato di Serie D la Sadicolo prende Gori De Feo invece va alla Vastese Serie D bianco-rossi anagonesi hanno messo le mani anche sull'attaccante argentino Cristaldi direttanti Angelo Renzetti punta il Francavilla planamente verso Lascoli e dunque questa è una notizia con l'attuale presidente Lugano Angelo Renzetti che potrebbe essere interessato al Francavilla Roseto parliamo di basket di Buonaventura c'è contento firmerà domani basket Serie A2 gli Sharks oggi ufficializzano la guardia che arriva da Moncalieri Di Paolo Antonio dice sarà una squadra giovane in B Campi prende Di Carmine in alto atletica leggera Donofrio entra nelle fiamme oro e poi per il caccia 5 doping slitta la sentenza per il bianco-azzurro Canale e Wilhelm è ad un passo torniamo adesso proprio sulle per continuare da dove avevamo iniziato sul messaggero avevamo visto la pagina con i gol con le parole di Aghans allora andiamo avanti tornando in Lega Pro c'è un altro difensore che parla a Teramo è Nebil Kaidi l'uomo salvezza Teramo è l'anno zero aver conservato la categoria è stato fondamentale aiuteremo i nuovi giovani in società si deve decidere se reintegrare alcuni epurati oppure ripartire da capo leggiamo altre notizie Pescara è il caso Canale il verdetto slitta la società ha presentato ricorso la Corte invece ha rinviato Francavilla ripescato e virtualmente in Serie D la Lega Dilettanti ha comunicato che è già nelle top 6 Di Carmine un ingegnere per rinforzare il Campli il veterano primo rinforzo ufficiale dice però sarà molto dura e all'Aquila si procede verso la cessione della società andiamo adesso cambiamo proprio quotidiano andando sulle colonne della città il quotidiano della provincia di Teramo per vedere quali sono le notizie principali proprio del quotidiano che tra un po' vedremo anche in onda eccola qua la guerra del torniamo a Teramo la guerra del cineteatro comunale la Coccagna annuncia querele verso i detrattori la ACS ha vinto l'appalto e non ha intenzione di restare subiudice le contestazioni di Comune e di Riccitelli in basso sempre a Teramo Bartolini Capogruppo frattura insanabile nel Partito Democratico Verna paga la vicinanza a Mariani annuncia il suo ritiro da tutte le commissioni torniamo sul teatro le autocertificazioni di ACS in commissione di garanzia Verna e Di Timotio dicono di voler evitare un contenzioso per i grillini la Coccagna ha regolarmente vinto l'appalto caso Braga invece tengono le poltrone ma non vogliono responsabilità che rel con comune e provincia ecco perché il ricorso dei docenti per gli stipendi arretrati è più che legittimo caso De Grado intanto l'area del conservatorio scivola nell'incuria il consigliere Arancione Pomante rilancia l'appello al decoro arrivato dai residenti di Piazza Verde di Via Stazio giochi senza frontiere e alzarsi con il sorriso nella grande sfida dopo il sisma e il maltempo siamo a Cronialeto nella sfida tra i comuni in provincia individuato il responsabile del rogo di Tossici ha dato fuoco agli sfalci vegetali innescando involontariamente l'incendio di un uliveto ed è stato denunciato sabato il raduno a San Gabriele nel segno della solidarietà Anmil mutilati e invalidi del lavoro Caccia un nuovo tavolo a Castelnuovo i presidenti degli ATC Terramani cercano di superare la fase di unpass l'incontro è stato fissato per lunedì sera sono stati invitati da Alfonso e tutti gli assessori e consiglieri regionali Andiamo avanti torniamo sulla vicenda di San Benedetto del Luna Park Nessun valore prima di precipitare l'autopsia sulla donna morta al Luna Park conferma le tesi investigative l'avvocato il legale della madre della vittima ha chiesto la rimozione dello slideshot dal Luna Park A Giulianova Boato e Rogo in Via Montello a prensione per l'incendio che ha distrutto una baracca e vedete nella foto davvero impressionante le fiamme che divorano questa baracca Nuovo ospedale 5 Stelle invitano Mastro Mauro alla coerenza riconsegni la fascia di sindaco sempre a Giulianova Forzisti pronti ad indicare il loro candidato Fanini gettate le basi per vincere ma serve anche il sostegno dice di alternativa popolare A Roseto aree rifiuti spunta il quarto indagato nell'inchiesta della finanza anche il rappresentante della ditta che ha pulito le spiagge le aree sequestrate la zona circense non avrebbe le dovute autorizzazioni l'autoporto invece non avrebbe i requisiti tecnici e chiudiamo con lo sport il teramo duello a stare petto gli esiliati tornano o no il DS removibile non torna nessuno il tecnico invece vorrebbe valutarne alcuni viste le difficoltà sul mercato e sul tavolo ci sarebbe l'eventuale ritorno di Spighi e di Carraro intanto in serie D la Virtus San Nicolò ha un nuovo portiere ingaggiato il giovane Gori è davvero tutto per questa edizione di mattino 6 che torna domani puntuale alle 8 ma io vi do appuntamento alle ore 14 con il nostro TG6 per le notizie più importanti della giornata è tutto buon proseguimento e l'eventuale ritorno e l'eventuale ritorno e l'eventuale ritorno e l'eventuale ritorno